Agricoltura nel Saluzzese ovviamente è sinonimo di frutticoltura, quali sono le problematiche del comparto a partire dalla mano d'opera? La prima cosa che hai detto è giusta, la mano d'opera in primis è il primo problema che abbiamo, uno dei tanti problemi che abbiamo. Abbiamo un costo come cuneo fiscale esageramente alto che in questi anni qua, che arriviamo da anni con prezzi al limite, cioè bassissimi. Arriviamo da un anno scorso di gelo, quest'anno i prezzi sono di nuovo bassi, non riusciamo, le aziende non riescono ad andare avanti. Altre problematiche del comparto? L'altra problematica è la vendita, la vendita siamo in una situazione che il costo della luce dei magazzini è molto alto, è molto alto. Noi, i costi di produzione in campagna anche noi sono aumentati dal gasolio ai fertilizzanti a tutto il resto e non riusciamo più a, come dire, a far quadrare i conti delle aziende. Parlavo con delle aziende, i miei amici che stanno pensando di chiudere, la cosa è molto molto grave, perché non parlo di aziende a fine carriera, facciamo il termine fine carriera, aziende che magari sono persone anziane, di ragazzi di 40-45 anni. Ovviamente la frutticoltura è centrale nell'economia del saluzzese. Penso proprio di sì, qua nella zona c'è anche altri comparti, però la frutticoltura nel saluzzese, l'Agnasco, Saluzzo, Revello, Scarnafigi, l'Agnasco è fondamentale, proponderante anche per tutto il sistema che gira attorno.